Buongiorno, in questo video presenterò un'applicazione, Google, per permettere facilità nell'utilizzo. Innanzitutto digitiamo il nome dell'applicazione in un motore di ricerca. Il secondo risultato è quello corretto, quindi Google Official Side. Google è un'applicazione web interattiva e free, che permette di creare dei diagrammi funzionali all'organizzazione delle idee e delle informazioni in maniera semplice ed efficace. Nell'home page dell'applicazione possiamo notare la presenza di un video. Il video è un video tutorial che spiega in modo accurato come funziona l'applicazione. In alto a destra notiamo tre finestre, la finestra Pricing, Features e Gallery. La finestra Pricing è la finestra dei prezzi, quindi notiamo tre differenti profili. Il profilo Free, ideato per scoprire Google e per l'utilizzo occasionale. Il profilo Eusom, ideato per l'utilizzo personale e professionale, 5 dollari al mese. Il profilo Organization, ideato per i team, che sono 8 dollari a membro a mese. Comunque l'offerta Free è abbastanza e molto ampia. Passiamo alla finestra Features. Allora, la finestra Features ci spiega le caratteristiche dell'applicazione. Innanzitutto possiamo coinvolgere altre persone per lavorare tutti insieme a un diagramma, a una mappa mentale a cui noi stiamo lavorando. Possiamo inserire delle immagini. Possiamo andare indietro nel tempo e vedere la cronologia delle modifiche nel nostro diagramma. Possiamo, cliccando su una parola, vedere qual è stata l'ultima modifica fatta su quella determinata parola in quella determinata area. Inoltre possiamo anche cambiare il colore del ramo, per scegliere differenti colori, per rendere anche la visione piacevole e più chiara. E possiamo commentare e chattare con i nostri collaboratori senza uscire dal nostro diagramma. Abbiamo un'ultima finestra, la finestra Gallery, dove possiamo visualizzare degli esempi di diagrammi. In questi diagrammi si può anche vedere che c'è la possibilità di inserire varie immagini, di farli anche abbastanza grandi. E tutto questo non è necessario alla registrazione. Ci registriamo per vedere effettivamente come funziona l'applicazione. La registrazione è semplice, io mi sono registrata con un account Google. Questa qua è la mia scrivania, dove io creo i miei diagrammi. Possiamo vedere anche quelli condivisi con me e la galleria, che è quella di prima, quindi i diagrammi che sono già stati presentati. Possiamo vederli tranquillamente anche quando non siamo registrati. Qua abbiamo delle informazioni, per esempio riguardo a Google, come contattarli, la privacy policy, i termini e le condizioni. Proviamo a creare un diagramma per vedere effettivamente come funziona l'applicazione. Quindi io digito come titolo Tempo Libero. Posso metterlo anche in grassetto. Da qua faccio partire un ramo, dal ramo posso scegliere per esempio il colore. Scriviamo per esempio in corsivo, Ascoltare Musica. Ecco, ho visto in corsivo. Facciamo partire un altro ramo e mettiamo per esempio in grassetto. E vediamo che è in grassetto. Inoltre possiamo anche inserire immagini, come potete vedere da qua, o allegare dei link. Dai rami possiamo appunto scegliere il colore e possiamo far partire altri rami. Spero che questo breve video vi sia stato di aiuto e grazie. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie per la visione!